L'aspetto culturale dell'alto piano di Cagliadega è un monumento, è un'area protetta perché ci sono questo sistema carsico che dovuto a quelle buche le avete viste anche scendendo questi avvallamenti e ce ne sono parecchi qua in giro sono anche segnalati non sono visitabili e questo è un aspetto un po' particolare di questa zona. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.